ciao stelline bentornate sul canale io sono anna e io sono blair oggi faremo una sfida su migaworld la prima sfida di regamento la faremo a tema colori io renderò questa stanza tutta di rosa e io questa tutta di verde inizio io bene iniziamo allora se sentite un po rumore e pulce il gatto della camera ok direi questa perché l'unica rosa non ancora moltissime cose molti arredamenti però ci accontentiamo se mettere questo no dai mettiamo questo c'è una camera da letto diamo ricordo una luce carina per mettere qui questa poi serve un armadio direi di metterne più di uno di quest'antra stanza grande non bene scriva mia non c'è un tavolo rosa beh facciamo questo è un fucsio a scuro sedia mettiamo questo scabello poi tappeti questa fiore mettiamone due sentite dei rumori e la cagna della della camera del nocciolino mettiamo questo divanetto con questi puff e poi magari qualche pianta bella questa è una pianta da appendere c'è questa rosa mettiamone una qua che c'è anche questa che è un po rosa mettiamola vediamo un po tra le altre luci vediamo aspettato dove che volevo mettere ecco c'è computer rosa e questo affare penso sia una radio metto due di questi che fanno lento ecco fatto messi la ora però serve una luce allora una luce rosa questa è troppo bella ecco fatto perfetto adesso do giusto qualche ritocco e adesso passo la parola a blur bene iniziamo vi dico subito che questa sfida per me sarà un po più difficile perché non c'è molta roba verde ok c'è questa carta da parati mettiamo questa e questo qua il minuto io farò un salotto visto che c'è il divano verde e i puff verdi ecco fatto mettiamo un tavolino uh questo è verde piante no aspetta vabbè vediamo il tappeto ecco questo è più verde che c'è è enorme però vabbè piante 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 mettiamo questa questa e questa quadri questo c'è del verde e questo anche del verde luci questo che è un verde scuro uh poi c'è questa da muro ok mettiamo dei cuscini mettiamo questo e questo direi che va bene così io non ho molte cose verdi vieni a vedere la mia vediamo qua c'è il mio letto qua la scrivania tutta rosa questa è un po' fuzia però era quella sull'unica che c'era qua ho messo degli armadi così poi ho messo le ventole e allora la mia illuminazione c'è questa pianta e questa luce va bene ora vieni a vedere la mia wow però è venuta una stanza carina anche se è di poche cose è già per me è stato più difficile ho messo questo tappeto il divano verde con i puff questo tavolino e la mia illuminazione è questa e questa molto carina bene stelline l'episodio finisce qui ora dovete votare nei commenti scrivete Tim Anna per la mia stanza Tim Blair per la mia diteci anche qual è il vostro colore preferito così noi faremo le stanze di quel colore e iscrivetevi al canale che ai 20 iscritti facciamo un video super speciale e lasciate un like e condividete il video oppure spargete la voce ciao